Eccolo il primo derby tutto pugliese di Serie C e quello del degli olivi tra la Fidelisandria e la Virtus Francavilla, che, ironia della sorte, si rigiocherà a distanza di tre giorni in Coppa Italia. Le due formazioni arrivano alla sfida con due stati d'animo diversi. La Virtus galvanizzata dopo la vittoria contro la Vibonese, la Fidelisandria un po' delusa dopo la sconfitta di Catania. Ma nel calcio si sa, la sfera torna sempre sul cerchio di centrocampo e nel derby le motivazioni di certo arrivano da sole. Non sarà una sfida come tutte le altre per Leonardo Nunzella, che nella Virtus ha anche indossato la fascia da capitano e lo ha fatto fino a qualche mese fa. In questa nuova avventura andriese non ha ancora avuto le chiavi da titolare, ma sarà difficile che Panarelli possa rinunciare a lui dal primo minuto. La Virtus ha riscoperto il piede di Ventola, autore del gol che ha deciso la sfida di domenica scorsa. Si rivedranno al Degli Olivi, dopo la breve e mai sbocciata avventura a Bitonto, il tecnico Roberto Taurino e il direttore sportivo della Fidelis Alessandro degli Esposti, che avrebbero potuto lavorare insieme in Serie C, ma poi la retrocessione d'ufficio per le note vicende legate alla Gombin contro il Picerno ha sciolto ogni sogno. Il fischio d'inizio di Fidelisandria Virtus Francavilla sarà alle 20.30. Trasmetteremo la sfida in diretta e in esclusiva televisiva su Antena Sud 13, compre partita alle 20. Grazie a tutti.